o torniamo in onda dai nostri studi per il secondo blocco di sabato italiano come vi avevamo promesso e c'è venuto a trovare un altro sindaco della provincia di rieti paolo lancia sindaco di contigliano buongiorno a tutti benvenuto anche con lei ci eravamo visti diversi anni fa e in questi anni ne sono successe tante ci siamo visti in occasione delle varie disgrazie, dei vari eventi più o meno ormai ne parliamo col sorriso fortunatamente perché sembra che stiamo uscendo un po' dalla crisi che ha attanagliato rieti tra il covid, tra appunto la crisi economica, il terremoto e quant'altro e uno dei segni distintivi di una ripresa è sicuramente il turismo contigliano è ricca di cultura, è ricca anche di ambientazioni bucoliche quindi tutto ciò che riguarda la natura in sé ce ne parla? ci parla un po' dei progetti sui quali si fonda contigliano per il turismo? subito, allora volentieri anche innanzitutto per stare proprio all'impegno diretto del comune il comune di Contigliano ha ripreso in mano, ha riattivato, rimesso in ordine e riaperto l'ostello comunale di Villa Franceschini che è un posto secondo me bellissimo ma non lo dico, non credo di dirlo per campanilismo è una villa dell'Ottocento tutta frescata che nel 2000 fu acquisita dal comune di Contigliano in occasione con i fondi del Giubileo 2000 e da allora è diventato un ostello per ragazzi, per pellegrini eccetera lì ci sono 62 posti letto che sono a disposizione di tutti abbiamo ospitato con molta gioia, molto piacere il mese scorso una rappresentanza, una ventina di ragazzi della Colombia per un gemellaggio costruito fra la Colombia e NPC Basket quindi Cattani eccetera è stata un'esperienza bellissima per loro sono stati veramente come in famiglia e per noi è stato bellissimo averli ovviamente so che tra un mese arriveranno circa 100 tra frati franceschiani e i loro accompagnatori, i ragazzi eccetera quindi è una struttura bellissima e quindi quello è un segno di un impegno diretto che ovviamente noi abbiamo messo a disposizione di tutto il territorio non soltanto di Contigliano con quella struttura ce ne sono altre molto importanti a Contigliano c'è l'agriturismo San Pastore che ha circa 60 posti letto c'è l'abbazia di San Pastore che sta su un livello chiaramente diverso per ricchezza diciamo così dell'offerta che ha altri 60 ed oltre posti letto ma c'è una catena bellissima di B&B case vacanze eccetera che mettono insieme complessivamente credo altri almeno altri 60 posti letto quindi stiamo parlando di una ricettività complessiva che è ben oltre i 200 posti a Contigliano e sono tutti molto pregevoli con le loro differenze ma sono tutti molto pregevoli e questo inoltre abbiamo in cantiere speriamo di aprire per l'estate perché insomma è già un po' di tempo che ci stiamo lavorando l'apertura di un'area sosta camper che faremo in un punto molto affascinante molto bello che sta immediatamente a valle dei ruderi della chiesa di San Lorenzo a breve distanza a poche centinaia di metri in un punto bellissimo di Contigliano panoramico dove sono sicuro che i camperisti troveranno un'accoglienza bella sul piano paesaggistico sul piano della funzionalità sul piano della vicinanza a tutti gli altri luoghi salienti della valle reatina insomma quindi questo abbiamo aperto questo spazio sorridendo un po' sui disastri che abbiamo purtroppo vissuto forse vedendo il bicchiere mezzo pieno ad esempio anche il covid ha rivalutato fatto rivalutare il turismo lento un tipo di turismo sul quale rieti e il reatino si deve poggiare assolutamente assolutamente allora io la mia opinione è questa noi siamo credo purtroppo credo che noi siamo la terz'ultima provincia d'Italia o qualcosa del genere per presenze turistiche quindi un dato che è penalizzante ben oltre i nostri demeriti abbiamo un da parte nostra abbiamo un paesaggio splendido abbiamo una presenza diciamo un dato naturalistico molto forte molto godibile a patto di andare piano a patto di darsi un passo lento e mi riferisco ai boschi ai laghi alla riserva naturale dei laghi lungo e ripasottile per esempio di cui Contigliano è parte integrante ma anche alla riserva del Cervia e Navegna che rappresenta e tutela territori bellissimi diciamo paesaggisticamente diversi dai nostri ma molto belli abbiamo naturalmente il Terminillo abbiamo tutto il sistema fluviale delle acque di cui ci siamo occupati per mille motivi in varie sedi abbiamo tanti luoghi molto belli da godere a condizione davvero di venire con il passo lento cui faceva riferimento abbiamo poi un dato chiaramente ambientale di grande pregio che è di grande interesse che è la cucina non so se avete visto nelle ultime settimane negli ultimi mesi delle attività di ristorazione di Contigliano sono state molto presenti sulle reti televisive nazionali sul Corriere della Sera è stato il Corriere della Sera ha premiato questo ristorante delicato che sta nel centro storico di Contigliano e che fa una cucina di assoluta eccellenza altre reti televisive si sono occupate di altre realtà della ristorazione il filo rosso di Coralli che è un ristorante antico un piccolo ristorante antico nel centro di Colle Baccaro abbiamo un agriturismo vero autentico come le Fontanelle su un altro versante abbiamo un'eccellenza del territorio reatino come Villa Battistini con la sua ristorazione di grande livello la sua grande capacità di accoglienza abbiamo un ristorante storico come Le Vigne che è stato premiato pure quello nelle ultime settimane ho visto dei riconoscimenti a questa famiglia di imprenditori ristoratori albergatori che opera a Contigliano da 60 anni ininterrottamente quindi abbiamo tanto sotto questo punto di vista e anche questo è qualcosa che deve entrare in gioco perché il turismo non è soltanto la bellezza dei paesaggi il vivere dentro questi paesaggi immergersi nella natura ma anche godere della cucina che è anche un elemento che dice molto della tradizione dei luoghi della capacità dei luoghi di accogliere di fare ospitalità nel senso più ampio e di proporre assolutamente abbiamo poi anche l'arte la bellezza delle costruzioni dei borghi dei paesaggi costruiti e antropizzati diciamo così quindi noi dobbiamo secondo me come territorio reatino nel suo insieme dobbiamo essere capaci di metterle insieme tutte queste cose perché rappresentano una secondo me uno spaccato importante e molto molto godibile molto vivibile dell'Italia di mezzo quello che non abbiamo a Rieti e dintorni non abbiamo la grande eccellenza facciamo un conto parlando di del francescanesimo per esempio noi non abbiamo Giotto abbiamo però il sistema dei santuari quindi abbiamo un sistema estremamente delicato sul piano dell'offerta della possibilità di essere anche quello vissuto su un piano di spiritualità eccetera pur senza avere l'artista di fama mondiale che attrae col suo nome come accade per loro fortuna ad Assisi per esempio allora dobbiamo calibrarci su questo su fare un'offerta molto diversificata giocando tutte le nostre carte dove c'è anche l'arte c'è anche l'architettura c'è anche la storia pur se non abbiamo quei fenomeni quei nomi di eccellenza che da soli richiamerebbero però se facciamo sistema secondo me possiamo fare una bellissima offerta possiamo mettere insieme una bellissima offerta giocandola tutti insieme come comuni come territori e dare molto a chi volesse intrattenersi da noi lei prima ha parlato anche di demeriti il demerito parliamo di politica quindi di politica strutturata sul territorio quali sono stati i demeriti negli ultimi decenni che non hanno garantito non solo a Rieti Capoluogo ma a tutti i paesi della provincia che come abbiamo detto ogni paese ha una peculiarità differente perché non siamo riusciti ad emergere pienamente perché siamo terzo ultimi quarto ultimi in classifica perché abbiamo ancora problematiche legate alle vie di comunicazione e a far conoscere il nostro nome fuori dal nostro territorio penso che intanto dicevo demeriti perché mi riferivo a un dato di fatto se una provincia come la nostra con quello che ha con quello che potenziale potenzialmente è sotto gli occhi di tutti è inutile che ce lo diciamo in parte vi ho accennato ma insomma sono cose note se una provincia come la nostra riesce ad essere la terz'ultima d'Italia per presenze turistiche un demerito c'è non lo ascriverei soltanto alla classe politica lo ascriverei a tutta la nostra scarsa attitudine a dire di noi secondo me quindi è anche un fatto di mentalità di vivere il nostro territorio è un fatto nostro culturale di tutti noi di ciascuno di noi quindi non c'è non c'è un atto d'accusa verso qualcuno siamo noi nell'insieme che evidentemente non riusciamo a dire di noi nel senso migliore salvo appunto queste cose che per fortuna si vedono in questi ultimi tempi cioè vedere eccellenze culinarie del territorio reatino prima ho detto di questi di Contigliano ma insomma abbiamo la trota che è un'eccellenza assoluta e che evidentemente riesce ad emergere riesce un ristorante come quello riesce a lavorare nel mondo ad essere conosciuto ovunque eccetera quindi qualcuno ci riesce a bucare questa questa valle splendida che però certe volte sembra che ci costringa dentro e ci nasconda tutto il resto nell'insieme evidentemente il messaggio non è passato e di conseguenza con una simile scarsità di presenze turistiche capita pure che poi le strutture di accoglienza siano assolutamente insoddisfacenti perché poi c'è questo perché il sistema chiaramente alberghiero dei posti letto eccetera la provincia di Rieti è deficitario sul piano quantitativo spesso lo è anche sul piano qualitativo ma questo è ovvio perché non essendoci un afflusso sostenuto costante stabile eccetera anche gli investimenti diventano difficili quindi c'è proprio da ripensarsi in questo modo reinventarsi ed essere capaci di parlare di sé di comunicare bene adeguatamente quello che è il proprio potenziale incrociando anche quel discorso del turismo lento che forse è quello più affine a noi proprio perché questi luoghi nostri per essere veramente capiti e goduti hanno bisogno dei tempi un po' più lenti un po' più lunghi che non quelli di chi arriva a morte e fugge perché noi abbiamo questo abbiamo questo dato di un'accoglienza che necessita di essere un po' più compresa un po' più meditata nel nostro nel nostro discorso inserirei anche forse anche un tradunione tutto ciò che abbiamo detto la manutenzione sia pubblica che privata dei nostri territori quindi si può parlare di una chiesa come di un qualsiasi altra struttura o delle vie di comunicazione ricollega a questo anche i fondi PNRR abbiamo accennati adesso ne parleremo più nello specifico perché ad esempio anche arrivata pochi giorni fa una segnalazione a riede in vetrina il cammino di Francesco ha dei tratti che sono quasi impraticabili sia per i pedoni sia per i turisti occasionali sia per le automobili ma da lì quello è solo un punto probabilmente ci sono anche altre problematiche che andrebbero affrontate negli anni i fondi non sono mai stati così tanti da poter gestire pienamente tutte le problematiche e forse anche questo è un problema è un demerito forse anche questo con il PNRR si vede un po' di luce quindi i sindaci anche dei piccoli borghi come Contigliano possono respirare meglio e su questo piano come state lavorando e dove andrete ad intervenire diciamo subito che per quanto riguarda il cammino di Francesco che c'è in arrivo una serie di interventi che sono stati frutto di un lavoro svolto dalla comunità montana quinta Montepiano Reatino quella che coinvolge anche Contigliano per cui è in arrivo questo finanziamento verrà distribuito fra tutti i comuni che stanno sul tracciato del cammino di Francesco e prevede una serie di interventi puntuali che dovrebbero migliorare una serie di situazioni però per tornare a quello che dicevamo prima il cammino di Francesco purtroppo è uno dei cammini meno noti d'Italia quindi è qualcosa sicuramente bellissima che mette insieme i nostri santuari eccetera ma la notorietà e quindi l'effettiva conoscenza da parte di turisti eccetera è qualcosa che andrebbe diciamo così rivista ripensata per quanto riguarda il PNRR rappresenta una grandissima opportunità ovviamente chiaramente è un'opportunità tutta a debito nel senso che noi poi questi costi prima o poi qualcuno dovrà ripagarli però se non altro ha rappresentato la possibilità per finanziare tante cose nei comuni noi siamo fortemente impegnati abbiamo avuto abbiamo fatto molti tentativi di intercettare fondi siamo stati sfortunati per ora su alcuni sul filone della cultura in modo particolare cultura turismo siamo stati più fortunati su aspetti di carattere sociale che ci interessano moltissimo in modo particolare abbiamo avuto abbiamo avuto un finanziamento PNRR di circa di oltre un milione 600 mila euro che ci consentirà di realizzare un nuovo asilo nido stiamo nella fase progettuale piena e di conseguenza tra poco il progetto sarà approvato e poi si tracorso velocissimamente alle overe l'intervento riguarda un lotto comunale quindi non c'è da fare sproprio altro l'asilo nido è qualcosa che per noi è importantissimo perché ed è stata anche una già oggi una delle più grandi realizzazioni dell'amministrazione attuale in quanto l'asilo nido ha aperto a Contigliano a settembre del 2021 quindi un anno e mezzo fa aperto da zero perché non c'era mai stato con una capienza massima di 39 bambini oggi ha 45 bambini iscritti quindi abbiamo utilizzato abbiamo dovuto ricorrere anche alle deroghe che la legge ci consentiva per questo grandissimo afflusso quindi un grande successo di questa struttura quello che stiamo per costruire nuovo avrà 66 posti quindi una e avrà tecnologie completamente da vanguardia quindi una costruzione che probabilmente sarà in legno totalmente antisismica sarà una costruzione ecosostenibile come si dice assolutamente green mentre l'altra era un vecchio edificio dignitoso era il vecchio asilo dove ero stato pure io ma insomma era un'altra cosa proprio e ci faremo altre cose ovviamente questa invece è una cosa completamente nuova e la facciamo con i fondi PNRR un altro grosso investimento che si annuncia che è stato consentito dal PNRR è un investimento che fa l'ASL su un nostro immobile su un palazzo storico di proprietà del comune di Contigliano sempre nel centro storico di Contigliano un palazzo detto Cavalletti con palazzo del 600 con vedute panoramiche splendide sulla valle di Rieti e sul Terminillo e lì diventerà casa di comunità cioè una struttura che è già entrata nel sistema sanitario regionale dove troveranno modo di operare sia i medici di famiglia sia il sistema dell'assistenza sociale che dei comuni che appartiene ai comuni il sistema del volontariato di Croce Rossa Protezione Civile il sistema che dovrà governare l'assistenza domiciliare che sarà una delle sfide della sanità futura prossima proprio in esito alle esperienze purtroppo durissime del Covid per cui lo sforzo che fa la Regione che fa il sistema sanitario nazionale è quello di rafforzare l'assistenza domiciliare per gli ammalati per gli anziani per coloro che soffrono di patologie croniche eccetera in modo da se possibile ridurre il loro afflusso nelle case di riposo nelle comunità di accoglienza eccetera gestire più possibile queste situazioni di disagio in casa e questa struttura questa casa di comunità servirà a questo e opererà non solo per il comune di Contigliano ma per tutti i comuni del circondario perché è una struttura non di scala comunale ma di scala sovracomunale sì ne nasceranno credo di questo tipo credo 4 in tutta la provincia di Rieti governeranno quindi un territorio abbastanza ampio per noi fondamentale perché tra l'altro noi abbiamo a Contigliano una forte fortissima presenza di case di riposo comunità alloggio cioè c'è proprio una filiera economica quindi noi abbiamo bisogno di essere forti sul piano sanitario per prevenire altri eventi come quelli che abbiamo conosciuto purtroppo nel 2020-21 prima di parlare un attimo del suo ruolo di presidente del Lions Rieti Host lei parlava di un aumento esponenziale di bimbi all'asilo questo significa che a fianco di una popolazione matura anziana ci sono coppie giovani che vogliono rimanere a Contigliano quindi nascono bimbi grazie a Dio futuri residenti magari futuri anche residenti di Contigliano e come dicevamo con il sindaco di Entrodoco questo è fondamentale per mantenere vivo il paese per noi questa è la più grande fortuna e la più grande speranza e anche la più grande vittoria forse sì intanto bisogna dire che una parte di questi 45 bambini attuali non sono di Contigliano ma sono dei paesi dei centri abitati immediatamente circostanti compresi parti del comune di Rieti vedi Poggio Fidoni che sono vicini insieme a noi e con i quali abbiamo scambi continui quindi per loro è molto comodo perché ovviamente è una delle modalità in cui Contigliano fa valere la sua posizione che è una posizione molto facile molto fortunata sul piano dei collegamenti dell'accessibilità diciamo così c'è poi una forte presenza per fortuna di famiglie giovani e di ragazzini ragazzi bambini per cui nel nostro polo scolastico che comprende oltre all'asilo nido la scuola materna la scuola elementare la scuola media complessivamente credo che in questo momento ci siano circa 550 tra bambini e ragazzini che è un dato importantissimo sul quale noi puntiamo fortemente anche per cercare di supportare l'offerta didattica della scuola che per noi è un asset fondamentale della società civile ecco diciamo così ultimi tre minuti ho accennato alla sua presidenza al Lions Rietiost sono già sei mesi e per altri pochi mesi sì altri quattro mesi quindi quattro cinque mesi lei sarà presidente di questo Lions qual è il suo ruolo perché al di là chiaro presidente ma al di là di questo deve essere rapporti anche con tutti i soci e poi anche qui come da primo cittadino creare progetti quindi portare avanti una serie di iniziative per la società e per il territorio ma intanto i Lions Club tutti il nostro anche ovviamente credo con grande impegno fanno stabilmente attività ormai di 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 sussidio sociale dai pacchi alimentari ad attività di promozione sociale e questo è diventato il tema più forte anche impegnandoci in progetti internazionali cosa che è consentita dalla dimensione planetaria di questo sistema di Lions Club per dire in questo momento siamo impegnati tutti nella realizzazione di strutture sanitarie eccetera di pronto soccorso per le popolazioni colpite dal terremoto della Turchia Siria e abbiamo anche noi dato ovviamente il nostro contributo c'è poi un aspetto di promozione culturale per cui tanto per fare un esempio in cui si incrociano un po' i ruoli che mi trovo in questo momento a ricoprire stiamo preparando anzi questo è già un invito a tutti a partecipare stiamo preparando un evento che sarà patrocinato dal Lions Club Rieti Host dal Comune di Contigliano che sarà presieduto e pensato da Monsignor Dario Viganò dell'Accademia Pontificia delle Scienze esperto di cinema critico cinematografico sarà dedicato a Pasolini al Vangelo secondo Matteo a partire dal Vangelo secondo Matteo ci sarà una riflessione sul rapporto fra Pasolini e le culture popolari ed è un modo per cui anche il Lions Club è presente per diciamo suggerire temi di riflessione alla società civile di cui altro esempio c'è stato qualche mese fa qui a Rieti quando abbiamo presentato ad ottobre abbiamo presentato il libro Rieti Città delle Acque cui ha lavorato un nostro socio bravissimo che è l'ingegnere Vincenzo Silvi cui ha lavorato anche Carlo Virili l'archeologo ma anche l'ex direttore dell'archivio di Stato di Rieti Roberto Lorenzetti e molti altri studiosi che non sto a nominare su un tema quello delle acque che è decisivo per la società reatina nella storia di questa città e di tutto il territorio sia pensando all'acqua come risorsa sia pensando all'acqua come problematica da gestire sono modalità in cui il Lions Club prova i Lions provano ad essere presenti a dare un contributo di crescita alla società mi auguro che in tutto questo abbiamo noi riusciamo effettivamente ad essere utili Club gode anche di personalità straordinarie notevolissime mi limito a citare due nomi il mio predecessore che è Nando Volpicelli che è un manager di industria e che si presta con grande coraggio e grande passione grandissima passione a organizzare eventi a mettersi al servizio proprio adesso sta facendo una cosa che il 16 aprile verrà luogo qui a Rieti e che darà a Rieti anche una grande visibilità che è il Lions Day che coinvolge l'intero distretto delle regioni Sardegna Lazio Umbria quindi ci sarà molta gente che verrà Rieti che conoscerà Rieti che apprezzerà questo centro bellissimo in cui ci troviamo adesso e che insomma amiamo tutti credo come nostra città il mio successore sarà Arash Sadighi che rappresenta direi un po' tutti i medici che stanno nel Lions Club con tutta la sua capacità professionale la sua intelligenza la sua brillantezza quindi insomma mi auguro che riusciamo ad essere utili effettivamente come suggerisce il motto che dice noi serviamo speriamo di servire bene le esigenze un po' del territorio ringrazio Paolo Lancia di essere stato con noi grazie a voi grazie di cuore a voi saluti a tutti buona giornata e buonissime cose a tutti quanti non ci abbandonate perché spazio all'informazione un brano musicale poi avremo il terzo blocco di Sabato Italiano a fra poco a fra poco un po' un po' un po' Grazie a tutti.